ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su south park the stick of truth siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta o meglio dopo aver reclutato token il diciamo l'amico nero ma che si faceva no sapevo che c'era un modo per scorrere boh non mi ricordo mi sembra di aver fatto una scorreggia ma non so come ho fatto e niente ragazzi dobbiamo andare avanti e cercare gli altri due amici di cui uno è l'amico lia che è rinchiuso a scuola e l'altro dobbiamo trovare ancora allora dobbiamo trovare craig e tweak per cui noi adesso andiamo nel punto più vicino da qua partendo da qua il più vicino è qua quindi andiamo guardi qua c'è il cinema ci sono trombine pampagur al cinema ok in 3d e tu chi sei non mi ricordo non mi percibio tu è io Al Gore sai Al Gore sono super important allora guardi ho scoperto alcune delle attività molto strane in questa area credo che ci siamo a fare con man bear pig sì THE man bear pig lo sai che sei ma bisogna prendi questi e place them in a location specifico on the man bear map pig Ok abbiamo fatto amicizia con qualcuno e abbiamo una nuova quest secondaria Twig Bros Eccolo qua dovremmo essere arrivati allora Aspetta c'è un Jim Pokemon Come la prendo? No non posso andare dietro Uffa volevo prendere questo Jim Pokemon E' sicuro un Jim Pokemon quello Vabbè Entriamo Sto combinando qualcosa in ufficio Aspetta Ancora non lo posso fare con l'abilità Ah no si Prendo tutto Eccolo A bene di puto Vediamo qui se c'è qualcosa Abbiamo un po' di roba, questo intanto se deve fare mettere al caffè lì Eeeh, chiusa a chiave Ci serve altro caffè? Quindi, nuovo amico Quest Vai a casa di Kenny E che la mamma di Kenny la consegna per la miscela per Twix Dov'è? Eeeh, ok Non è neanche tanto lontano Vado ad andare da questa parte Caricamento Un barbone Poi una volta qua Aspettate, intanto No, si è aperto a metà Eeeh Ma che caspita Ma che gente ci vive a South Park E busso in tutte le porte, non si sa mai Oddio Ok, qua siamo nella casetta qua del finocchio Del, eh, di quello gay Non ho da immaginare come si è arredato tutto il resto La classica casa ha un piano solo Intanto prendiamo roba Guarda, questo cassetto non l'ho aperto Ah no, si, l'ho aperto Che nero E spegne la sta tv Scheggiagli ceramica Oh, ha pure un box Vediamo che macchina c'hai Tutta roba militare Di vtanga Mappa Dove siamo adesso? Sì, ok Siamo quasi arrivati Ok, siamo giusti All'alparco Qua dovevamo andare Dovrebbe essere tipo qui Dovrebbe essere tipo questa la casa Aspetta, sblocchiamo Casa di Kenny, sì Oh, cavolo, è chiusa Maniera del viaggio rapido Sette di dodici, eh Vediamo Oh, questo non è per me Questo è per le belle persone Che stanno vendendo la casa di guest Alla parte Cabe del garage Sarà questa? Oh, sì Oh, madonna Ma non sono un poliziotto Sono solo un bambino 122, 120 Direi questa va Malus difesa Ok, questa è andata In due turni Home run Abilità Ho sbrumuto dopo Ok, questo Ok, questo è andato Boh Battuti, tutti e tre Prendiamo tutto Perfino le siringhe Ah, cavolo, là non posso andare Però adesso sì Sacchetto speciale di tweak Ok, possiamo andare anche da tweak Una canotta Ok, possiamo tornare da tweak Oh, mamma mia Ok Però lì sopra c'è qualcosa Come ci vado lì? Aspetta Aspetta Qua sono spariti i cadaveri intanto Oh La viena sanguinata di Kenny Ok Ok, siamo riusciti a prendere un po' tutto Quello che c'era da prendere qui Alla fine è una quest secondaria Di una quest principale Cioè, quindi bene o male bisognava farla Sta cosa, raga Quindi adesso Facciamo il viaggino rapido Ricordiamoci dove sono tutti i cim pokemon Che non ho preso, eh C'è questo bambino? Raga c'è la musica un po' Ok Ok Abbiamo anche reclutato tweak Però adesso non so se quella cassa la possiamo prendere Adesso ci manca solo l'ultimo da prendere Con la scuola Wow Robito del frate Strumentario Quanti del frate Cioè io praticamente ho tutto l'arsenale del frate Ma non lo posso mettere Perché è di livello 3 Io sono di livello 2 Mi sa che dopo lo cambiamo ragazzi L'arsenale Well soldiers reporting for duty grand wizard Nice work douchebag Now all my men are here and ready to fight for the- Wait a minute Where's Feldsfar? Where's my level 12 thief? Uh hey yeah Where's Craig? He's in detention What? He flipped off the principal So he's in detention again Oh my god If they've locked away our thief in detention We have no hope of getting back to the stick of truth We have to break him out Ah no way man Last time we broke Craig out of detention We all got in trouble Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take You have to break out our thief douchebag But don't worry I will not let you go unprepared I'm going to teach you how to use magic Meet me at the training barracks It's time for you to learn Dragon shout Olè livello 3 Ok va che bellini che siamo Ok ma non abbiamo altre armi vero? Clava insanguinata di Kenny 18, 18, 26 No questo è più forte il manganello Ok Molto bene ragazzi Io direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare, condividere, iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E alla prossima Ciao belli 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 Ciao belli